Ed ora la protesta dei gilet gialli che torna ad infiammare Parigi. Alta tensione nel ventitresimo sabato consecutivo di proteste, quasi 200, sono i fermi, lancio di lacrimogeni, auto incendiate e cariche della polizia. Subito in diretta con il nostro corrispondente Alessandro Cassieri. Sì, è stata un'altra giornata di guerriglia, si temeva anche se si sperava che all'indomani della catastrofica vicenda di Notre Dame, l'incendio di Notre Dame, l'idea di dare luogo a una tregua potesse sopravvivere. Invece non è stato così, si è cercato in tutti i modi di rendere questa giornata molto complicata sotto il profilo dell'ordine pubblico. Ricordavi tu quello che è successo nel corso delle prime ore del corteo con incendi, assalti a negozi e una serie di diversivi aggressivi da parte di forze organizzate, da parte dei gilet gialli che sono state assolutamente represse in maniera limitata da parte della polizia che ha potuto svolgere qualcosa come 20.000 controlli preventivi soltanto a Parigi, 140 agli arresti. E tutto questo però non è bastato a rendere la giornata più tranquilla, andrà avanti ancora per qualche ora, ma la dispersione su questa piazza della Repubblica è stata l'epicentro della giornata di oggi, degli scontri. Va in qualche misura a rasserenarsi e anche se c'è una cornice di mezzi della polizia che continua a cercare di tenere sotto controllo una situazione costantemente sul punto di rebordare. Da Parigi a te la linea. Grazie, grazie Cassieri.